Dal 18 dicembre al 6 gennaio scorsi 650 pattugli della Polizia Ferroviaria del Piemonte hanno controllato nelle diverse stazioni delle fuorivie dello Stato 9.110 persone, tre delle quali sono state arrestate in fragranza di reato, 28 indagate a piede libero. Inoltre sono stati effettuati 48 servizi anti-borseggio con personale in servizio in abiti civili per meglio contrastare i furti in danno dei viaggiatori. Durante il periodo festivo l'impegno della Polizia Ferroviaria è stato costante, 230 le pattuglie istituite per il controllo effettuato sui treni, dove l'impegno della Polfer per individuare i personaggi che si aggiravano fra i vagoni di maniera sospetta è stato capillare. Maggiore impegno nelle stazioni ferroviarie Torino-Portanuovo e Portasusa e negli ambiti ferroviari delle città capoluogo di provincia del Piemonte. Nel corso dei controlli gli uomini della Polizia Ferroviaria hanno recuperato numerose borse e borsette rubate a passeggeri, soprattutto a quelli che viaggiavano su treni ad alta velocità e nei vagoni letto, ingente in quantità di droga sequestrata. Durante i controlli particolarmente efficace si è dimostrato l'uso degli smartphone in dotazione agli agenti della Polfer, che hanno permesso al personale e polizia di effettuare un maggior numero di controlli grazie alle funzioni di lettura ottica dei documenti elettronici.